Il Nereto conferma la vittoria di Pratola dopo una grande prestazione, mentre la Midernina, privata del proprio bomber Mazzaferro, non riesce ad ottenere la terza vittoria di fila. Fischia il signor Giampietro della sezione di Pescara, il primo tempo è tutto di marchia La prima occasione della gara arriva al settimo minuto, con Calderaro che da lontano si porta il pallone sul sinistro e calcia non inquadrando di poco lo specchio della porta. Ci prova Bellini, con un tiro che finisce abbondantemente sul fondo. Al trentaduesimo, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Sorci, Ballanti colpisce di testa, ma non inquadra lo specchio della porta. Al trentanovesimo ci prova Florimbi che da buona posizione manda alto a causa di una deviazione. Si va a riposo sullo 0-0. Il secondo tempo diventa più divertente del primo. Al secondo minuto, sugli sviluppi di un corner, c'è un colpo di testa di un attaccante del Nereto. La sfera termina fuori. Un minuto dopo arriva il gol vittoria firmato Lazzarini, il quale approfitta di un errore di Marino di Alessandro. La midernina prova a reagire. Un minuto dopo, con il tiro di Santirocco, che si stampa sulla traversa. Rischia di subire il raddoppio al nono minuto, quando Rossetti buca l'intervento su Lazzarini, che non riesce ad arrivare sul pallone, grazie alla chiusura di Marino di Alessandro. Al minuto 12 c'è una doppia occasione per il Nereto per raddoppiare. La prima con il tiro di Lazzarini respinto dal portiere. E poi sul cross di Calderaro, Bellini e Lazzarini si ostacolano. Al ventiduesimo, tiro di Lazzarini sul cross. La palla termina di pochissimo al lato. Il finale è tutto barchiato a midernina, con due occasioni. La prima al trentacinquesimo, sui piedi di Fantauzzi, che con un tiro sfiora il palo. L'ultima occasione della partita è sui piedi di Santi Rocco, che prova la conclusione debole dal limite che si spegne sul fondo. Allora, mister Angelone, dopo due vittorie di fila, arriva una sconfitta. In una gara giocata anche bene dalla sua squadra. Sì, è arrivata la sconfitta dopo due vittorie, però la prestazione c'è stata. I ragazzi hanno giocato bene, abbiamo sofferto pochissimo, abbiamo preso il primo gol sul nostro errore, probabilmente anche su un'azione viziata, un po' di gioco, è da rivedere l'azione. E la seconda occasione che hanno avuto, sempre su una palla persa da un nostro difensore. Poi abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare subito dopo il gol, colpendo la traversa con Santi Rocco. Anche una deviazione su un tiro di Fantauzzi uscita da poco fuori, quindi abbiamo avuto anche l'occasione noi per pareggiarla. Diciamo che non c'è stato risultato positivo, peccato, però c'è stata una buona prestazione da parte dei miei. Dopo una partita giocata alla grande della sua squadra, arriva una grandissima vittoria che conferma quella di Pratola della settimana scorsa. Sì, forse questa è un pochino più sofferta, anche se quella di Pratola è venuta al 93. È difficile perché poi la mitarnina è venuta quasi chiusa bene, quindi noi siamo stati bravi a sbloccarla e poi siamo stati fortunati quando loro nell'unica occasione che hanno avuto hanno preso la traversa, quindi però tutto sommato alla fine diciamo che non abbiamo rubato niente.